Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video Allora, oggi siamo tornati in questo nuovo video Di cui Andrò a giocare A Roblox Va bene, vi lascio un video Eccoci raga sul Roblox Allora, scelgo, scelgo, scelgo Capitano neri Ecco raga Perché non mi salda? Io ho saldato Un attimo Ecco, allora E direi che mi si è ridato Mettiamo Spider-Man Oh, Spider-Man Un alfabeto In realtà sarebbe buono di rivederti qua Nooo Io ora in realtà ho il vestito di Batman Quindi dovrei essere Batman Quindi dovrei essere Batman Ma io salto Ma io salto Ho cambiato gioco Perché non l'ho cambiato Non l'ho cambiato Non l'ho cambiato Scelgo 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 Grazie a tutti. Ok raga, allora abbiamo 10. Alla entrare nel circolo. 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 Alla entrare nel circolo.